Bene, adesso affrontiamo un gruppo di filtri assolutamente importanti e affiniti ci ne avete a disposizione veramente tanti sull'argomento e parliamo di sfocatura. Allora noi abbiamo sotto livelli LIFE tutto un gruppo che è il primo gruppo di filtri di sfocature dalla sfocatura gaussiana, caselle, mediana, movimento, lente, campo, profondità di campo, di fondi alone sono tutte forme di sfocatura. Ma poi se andiamo a vedere sotto i filtri distruttivi ne abbiamo ancora altri a disposizione, altri che non sono citati in quelli non distruttivi come lo zoom, filtro radiale oppure sfocature massima e minima, sfocatura personalizzata. Ora adesso non andremo a vederli uno per uno perché sono anche semplici e intuitivi basta applicarli e provarli. Invece voglio farvi vedere le tecniche per applicare correttamente i filtri di sfocatura che penso che sia molto più importante avere degli effetti belli e capire anche che a volte le sfocature servono non solo per creare una sfocatura di sfondo ad esempio ma anche effetti particolari. Allora cominciamo con questa immagine qui. Qui abbiamo uno sfondo che chiamiamo sfondo e come vedete lo sfondo dietro è piuttosto brutto perché abbiamo questa questa casa, questi alberi che sono leggermente sfocati ma possiamo fare decisamente di meglio e soprattutto possiamo decidere che tipo di sfocatura applicare. Allora intanto guardate ho creato nei canali una selezione dell'uomo. Questo è importante perché? Perché adesso vedrete se noi applichiamo ad esempio cominciamo con un filtro, sposto un attimo i livelli così li vedete meglio. Se io adesso applico ad esempio una sfocatura gaussiana, è una sfocatura lieve uniforme per ridurre il disturbo, è una di quelle che si usa effettivamente di più. Adesso io applico questa sfocatura gaussiana, vedete, l'applicazione è semplicissima. Il raggio indica ovviamente quanta sfocatura sto applicando. È evidente che io ho bisogno a questo punto di una maschera che mi metta in evidenza l'uomo perché l'uomo è in primo piano non voglio che venga sfocato. Allora vado sotto canali e tasto destro del mouse carica selezione e applico questa mia maschera. Vedete la inserisco qui nello sfondo gaussiano però adesso mi sa che dobbiamo invertirla. Vedete la maschera mette in evidenza l'uomo ma noi invertiamo la selezione ma noi invertiamo questa selezione dunque controllo command i per invertire e questo è il risultato. In realtà però vedete sembra intuitivo per il risultato non è molto bello perché facendo così ho sempre questi brutti alloni attorno. Allora adesso vi faccio vedere una tecnica molto bella per eliminare questo problema. Per adesso nascondo questa sfocatura e duplico controllo comma j il mio livello sfondo e guardate cosa facciamo su questo livello sfondo. Prendo il mio pennello di ritocco che abbiamo già conosciuto nei capitoli precedenti in painting e guardate elimino il personaggio. Questo perché lo faccio? Lo faccio per avere uno sfondo uniforme e non avere questi passaggi dal personaggio di primo piano a quello sfondo tipo capelli e così via. Vedete non è necessario che ci sia un lavoro assolutamente preciso perché come vedete adesso applicando la sfocatura su questo livello sfocatura su questo livello qui guardate cambia completamente. Adesso cosa facciamo? Intanto elimino questa maschera che non mi serve più applico la sfocatura su tutto il livello vedete e poi duplico di nuovo lo sfondo lo posiziono sopra e questo a questo punto riprendo il mio uomo questa volta tasto destro del mouse prendo la maschera effettivamente solo dell'uomo vedete lo prendo lo inserisco e deseleziono. Guardate adesso l'effetto vedete che avete uno sfondo perfetto senza alloni creato ovviamente dalla sfocatura dei bordi attorno all'uomo e dunque questo è una tecnica importantissimo per applicare una sfocatura allo sfondo. A questo punto noi possiamo semplicemente divertirci a scegliere il tipo di sfocatura più adatta. Allora abbiamo visto che causiana è una adesso la nascondo scegliamo un'altra ad esempio sfocatura casella anche questo a questa sola un'impostazione e crea questo effetto vedete a mo' di casella che non è male vedete ha un effetto ha un effetto interessante e anche qui ovviamente sempre voi potete impostare il raggio metodo di fusione opacità a seconda alle esigenze. Chiudo nascondo un attimo questo andiamo a vedere altre bilaterale bilaterale è una sfocatura che mantiene alto il contrasto guardate io creo questo questo raggio di sfocatura vedete che la sfocatura viene applicata là dove non ci sono bordi praticamente o poca differenza di bordi dunque il colore verde tra di loro l'albero tra di loro ha poco contrasto e dunque viene applicato la sfocatura. Qui attorno alle finestre e il muro c'è contrasto e questo viene mantenuto e la sfocatura viene applicata sul muro e sulle finestre dunque va visto così poi potete regolare la tolleranza vedete quanta tolleranza volete volete mantenere più o meno contrasti poi abbiamo la sfocatura mediana la mediana anche questa sfocatura interessate a aree di colore vedete si concentra su aree di colore e così via poi potete provare se andate a vedere ci sono diverse altre ancora che andremo a vedere poi su altre immagini adesso colgo l'occasione comunque per farvi vedere che ci sono anche alcune alcuni effetti di sfocatura che vanno applicati direttamente sui livelli però lo vediamo nel prossimo video training grazie a tutti grazie a tutti